eccoci qua con la nuova racchetta di novak diokovic la head speed pro da 315 grammi siamo riusciti a provarla in anteprima ed effettivamente è un attrezzo davvero interessante molto particolare devo dire la sensazione è che ricalchi proprio il gioco di diokovic nel senso grandi colpi di piatto grandi colpi in difesa molto molto maneggevole è bilanciata 31 quindi è assolutamente neutra e ciò nonostante riesce a dare una spinta notevolissima alla palla l'ideale sono i propri colpi di controbalzo la velocità è una racchetta rapidissima molto precisa e al tempo stesso non proibitiva la cosa più bella è senz'altro questa la rapidità insieme al comfort ha in mano una racchetta da 315 grammi e ti sembra che voli nell'aria non a caso la risposta velocissima in questo senso mi viene in mente diokovic mi viene in mente diokovic perché chiaramente la sua quella originale sarà customizzata con le sue esigenze ma questa ti fa giocare alla diokovic ti favorisce i colpi alla diokovic una cosa su tutto è molto confortevole che è una caratteristica che le racchette agonistiche della head una volta un pochino trascuravano in funzione dell'esigenza del giocatore professionista questa è molto confortevole però è precisa grande controllo grande velocità ideale per picchiare con grande determinazione grazie a tutti 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 Grazie a tutti